Bell'acquisto, bravo! Non senti quando ricarichi i soldi, tipo... Esce, ti mostro un'auto a caso. Sì. Così a caso. E a me fa ricordare quella cosa che mi è capitata. Quelle bellissime skin che mi sono capitate. Mi ci fa pensare. Pezzo di merda. Ripingi. Ripingi. Hai messo la mia skin però, bravo Cicci. Almeno bene. Eh sì, eh. Ah che figo, sembra... Ah no, è un poro però quello che ci chiede. Non invidibile, non invidibile... Ah no, ok. È questo un poro? Oddio. È la mia palla, è la mia palla, è la mia palla. È la mia palla. Guarda i back e le risate e quelle cose lì. I back di chi, scusa? Di Orianna, sicuramente bene. È la base avversaria. Sono tutti diversi. Oh ragazzi, avete presente la capra, quella del gioco... Oh, quanto è bella, è che di Orianna. Vedi? È veramente bella come skin. Guarda anche le altre, anche la danza e le altre. Raga, come si chiama quel gioco della capra dove distruggevi tutto? God Simulator. Eh, guardate la testa di Nasu, sembra la capra di God Simulator, quella satanica. Chi è che spama queste cose? La testa è uguale. Non sembra la mia palla più che altro. Vabbè dai. Oddio che bello! Oddio che figata! No! Bellissima cosa! Che figata! Le torrette di Mertighe, quanto sono belle! Ciccio guardale! LOL! Sono stupende, vero? Quasi così me la compro con lo schelletto. Ma veramente ho finito le missioni! Fuck! Hai visto di picchiarmi la mia povera torretta? Che st'ha fatto di cosa? Sono belle! Cioè la metti dritta così vediamo la faccia del coso? Che stai fatte qua? Stai facendo snowboard! Ciccio ciccio guardale! C'è un telefono che ho vintato a me, chi è che spama? Dias chi è che è? Baccatoia! Mi sa che ci stai restando male, Quintarius! Dove sei? Blindi! Eh, stavo rispondendo! Are you ready for this? Ready for... ready for... Yes! Too far, Magico! No! 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 Non si sta trovando! No, no! Appena faccio il numero... Non ho la mia word! Non ho la mia word! Disagio! No, la carina come skin, dai, non è bruttissima, però... Avrei preferito due skin a casa, non c'è. Non c'è. Noo! Posso trattare le sulle tue cose! Certo! Ma vi si fanno un buon pomo... Certo, ma ci fanno un buon pomo! Certo, ma faccio... Ti peggio schifo... Ma dovrei smacere dentro la loro base? No! No, perché dovremmo essere dentro la loro base? Pensavo che vegli frizzaste le leine... in sì che ci sono già un posto vengono ma sarebbe bella come cosa ci prendiamo a nidia canton il dono che è il dalle nel senso che ti pigli tutti che ripete di cannes si aveva visto che arrivano magari fai a scoprire sui siti per un po sto bullo quali danni che fa una copia non c'è infatti scandaloso no scusa calentis bellissimi sui amici max alla culottia. 3.0 ma con sicuri tono non lo so l'ho storiana che l'ha fatto tempo e 5 resti missili proprio dopo la e e dopo la resti missili no non morire di bocchia e rottura di pallo rianna se a me non c'è le palle infatti poco quante bella come pallina quando è che ci sono anche bello aspetta guarda l'ho pensato se questo schifo trapporca troia non volevo spendere così tanto poi l'anno prossimo lo venderanno più se non erro questo è un avendo qua perchè per comprare quanto ho vissuto blindi con quanto fa non siamo io lei allora lei c'ha 9 di farmi te 29 no non devo spiegare ma non sposte poco appogliana supporta sottolineato si veramente ecco il risultato di cipoio c'è di che comunque c'è di farmi stupida hai un trinket cc cc è stata proprio di evi long space spada ma mamma mia ho preso anche l'assist ma quanto compro hai visto che mi sono comprato la world skin eh sì infatti sto guardando questo non non puoi fermare non puoi fermare lì allarando ok io non c'è più mano sono un po' vabbè ma tutti compri a lotto un po' te lo so che ti do no primo oggetto mi faccio si non mi faccia la latina si va che ma che così mi dà lo scuro alla fine mi dà tenete botlane grazie c'è una piccola non puoi fermare u quanto sei staccato se non ho fatto vedere come c'è noto plane non è possibile c'è tutti i cosi fri ma il ticcio due assist un uomo sentire for christmas la mia vita io ma ma e bello quando cammino e me vinde guardalo ok ma cosa vuole eh infatti si stava lega troppo oh eeeh oh via non c'ho male lol ti enti ti enti che sto anche farmando that's the best progetti non c'ho male per fargli tipo i big danni oh aiuto vedete che comando qua oddio che danni facciamo 81 di farmaci, sai che vuol dire 81 danni alla bianca di carri così facciamo come l'uomo combo te lo spugnino addosso e ritorno ci sono anche te è vero tipo tu lo slow e ti metto la palla e un ci si dopo ci sono le bombo combo a caso che volevano farlo vai piccolo c'è il titolo tc c'è uno sciotti ma di carico sti nonostante ma il fatto da popolo poi poter dare questo po' così che scherzo non mi dà una situazione e l'emendinger conto non puoi cazzo ma in base tra i quali quali come un po' così mia no con ultimi ttc come sa che la torre ma quanti sono forti che feste buon se ne vinta scuola con il suo riempio il sdl prezzo per cantare che non viene lindrattore botte metà vita o c'è l'ultima ultimo vado in culo aspetta, vado a vero perchè flash ha detto disinetta un pacifico un'altra cosa di utile un campo no, non ti sono solo così non ero e non ero su e prego prego vado a aspettarmi scusa non mi aspettavo che va beh chi è che è stata fatta tanto muciccio adesso c'è un male da dire sì che li faremo colendo secondi sono a faldregg di già non c'ho se aspettate 18 secondi ve lo dico lo dico io sono a fare vabbè noi abbiamo vinto a lane di ulti andiamo top andiamo top andiamo top oddio blindi arrivo arrivo aiutami un pochino a il blu non è che non bucciano non è che no se io questo obbiettivi non c'è la tacco fisica per le magie non più che troppo un piccato da te i giovani del gioco io ho giocato ma che segna o un buon cliente sveglia anche che per l'ultimo campanile 50 ghanca di ultimo ultimo quanto 150 fai chiesi di cattiveria proprio triniti c'è ancora il red c'è un trinco e c'è un trinco buon per te antonio non c'è le compagnie anche le volte non si tratta di conti aiutami cm metterlo dopo lo scuro ss per il fatto di strada la cattiveria e stessi con le preghi no non ci fa la cattiveria quanto far mai 30 lol mi ha fatto un cazzo in here No, è proprio lontano Ho la ultima Stiamo facendo un game, com'è possibile? Che ci vedi? Orianna support to farming Madonna È tutto grazie alla skin, secondo me La ultima mi si è sbloccata in quel secondo là Lontiamo Ho la ultima Ma senti chiedo che l'ho detto Che cazzo È vera qualcuno prima o poi Io ho già tre kill, so apposto Mi metto Sacaccia, mi raccomando Che senti C'è chi? Si è lo skinnavo Ci si fa così di tiro No Ah ma c'era Dario sbotto Eh infatti Non ci fidate il nostro suo planere Erano in quattro il botte Eh ormai sai com'è E' fatto una kill vero ci penso Si si Quella l'importante Si si Ogni le cose molli Corri No con la mamma Scusa Zenon se Ah mi si è chiuso Scusa solo Zenon Non agli altri Mi raccomando Eh? Ha fatto scusa Zenon E mi si è chiuso LOL Scusa Scusa solo te Non agli altri Non manco sentito io L'ha scritto Scusa Scusa Zenon se io te lo hai One shot in minion Paticamente Hai un trinket Vabbè meglio che li compri Trinket Sono qua 5 l'hanno sempre Ma te che si sta prendendo Vieni fuori in pop Lo prendiamo subito Faccio l'insec Ciccio se ti ascolta Si si Se li più tutti e due No se ne è andato Vaffanculo Eh qua sta riconoscendo Oh sta riconoscendo Corri 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 Non mi muovo non mi muovo non mi muovo non mi muovo Sibilisto so dove sei Mi muovo letteralmente non mi muovo Farma permettere Oh ciccio ciccio Vabbè su Quello è mio Corri 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 Vette su No vaffan Beh vedeo che ce le Ancora Darius Come fai se c'è ancora Darius Mi rompe coglioni con Darius Hai visto che c'è un ulto di giri doppio Madonna Scusa Scusa Non mi devi voltare Sono morto Scusa Scusa Oddio 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 i poli ma hanno fatto tolma 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 dovrò andiamo a fare il blu guarda blindi ma che carino eeeh aspetta ti voglio il ricollo così facciamo mammo muore il tuo cuore oddio che ho detto! si ho visto stacca però stacca stacca ti fatti sull'ombra c'è arriva? si c'è arrivo arriva arriva gira ti gira eh non c'è ma è troppo forte nella asus eh ti ho detto perchè poi gli sciottila di gary anche se farmi poco vedi c'hai un support che mi fa farmare gli altri madonna che da un scudo da un bordellissimo di scudo ma questa toplay che va in giro a carriere la gente andiamo a fare cosa? no no vabbè tu fatti mille siete lenti oh drake bello no è il mio blue buff va bene e questo ulti asci non ulti anche se facesse come se facessi molti danni lo stumma ebbè quello fa eeeh qui io ok metto sulla camera no l'unico che può rompermi un po' i coglioni è Darius un po' è lo static, ah ok vabbè mica giusto che era in bot Darius da 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 è già venuto 2 volte sono tipo 300 miliardi non è mai morto un applausi con questo caso esce via riculta sul support surprise no è sbloccata l'ultimo momento in cui sono morto aspetta, aspetta 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 che il cosetto non migliore vita 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 mi aspettai che torna segnalo mai col b no no siete inutili si oh no no ciao non potete uccidermi bidoni oddio bidoni ci torna anche no no vendicami vai Zeno vai Zeno oddio l'ha fatto lui si quanto dono no che oddio il disagio ciao oddio l'ha fatto oddio l'ha fatto mi chiede di nuovo su Ernst non figlia di puttano che vuole farmi mollare rompendomi le palle lindy dove sei dietro di te no cioè dico non ti sentivo più dietro di te c'ho paura qua che credo si sta anche stravincendo per pensare un po' che aiutami posso vincere è buono 18 minuti avere circa 300 stack con nasus si e poi quanti circa 300 stiamo creando un mostro il mosto occhio la torre madonna andiamo via subito, fatti minimo, carmela torre madonna samba cosa arrivano nemici c'è un po' un po' un po' c'è Nuno Lulu vieni qua vieni qua vieni qua eh si Lulu sta in top e noi stiamo qua adesso passo a V passo what is sto Baron? Baron? oh vengo qua qua andiamo andiamo quanta gente c'è? no vabbè lascia lascia fate il grump eh infatti sto... Du quanto sono cattivo dove va il mio monoshock oddio fa impressione guarda si si fa impressione su serio cos'è questa Yang Bang? oh oh aspetta ci facciamo tutti via oh vieni qui vieni qua fuck ha messo vision ciao ciao non ce l'ho l'ho già tirata sei inutile non da bella quella cu nooo nooo ci muori eh shhh i mini ho un anti-q fuori 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 un attimo eh devo aspettarlo scusa non ho visto i danni non vale rifallo e siamo a 22 minuti eh fuori 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 non c'è gente in base no no allora c'è una 2fk tv no vino il drago il drago no no che prima facciamo tutto e' un botto poi i due prima no portotti lista non l'ho visto anche io mio Sometimes Bykes surprise neska ma ecco no, il drago sposta e le cose ci c'è aspetta ehi voglio l'assist effettivamente lo scudo, non uccidere oh facco, 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 facco la un po' lo scudo sembra un po' lo guarda si sono un po' gigante noob champ cosa vabbè è vero non è vero, vi sapete che usare ma che poi c'è clear voyance perchè devi sapere come piazzare l'acqua essere tattico l'idea che sapete agli suon gilano ma quante guardi ci sono in bot e così c'è lasciami il ciccione grazie papà la mia torrette è dietro haha stupido oddio perchè si uccide la gente dietro i muri guarda io mi sono taggato per mezz'ora la torre ok noo lasciata no no pezzo guarda i nerdinger haha haha ok 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 ti do la mano ti do la mano oh oh madonna è tornato al froge e chissà e ho fatto una penca poche parole ha qui no 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 che fa' di cazzo si fa prendere per lì guarda come scappa oddio ma io voglio asci no c'è anche il baschetto asci no lel ok a 3 che vuote è successo ah e poi arriva lui l'ulta su darius a caso che è la vita la ultima non ha senso perchè ora ciccio sta ancora fermando faccio mille di cucù con un critico che cattiveria ma porca di onda l'ulti di asci dove andrà mai arrivo spettacoli ma che cazzo vuole stare ma come sto calcolando venite in me, blindi, blindi, blindi arriva arriva e sgombra la via corri no lol oh my god outplay scusa 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 ma ti sembra ma ti sembra il modo ragazzo scusa 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 un critico adesso vieni qua scusa a delicatezza ho creato un mostro eh sì eh sì ragazzi non si comincia la partita di sinu un botte nasus e non ci potete che non fa far male da bomba i cinemedi di indietro con questo per il giorgio tre anni dopo quanto poi si attacca a base? tanto c'è un Emilio che si fanno l'inibitore da soli vi che muore no si 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 baron baron brum 28 minuti 414 di io voglio fargli un po' di juke guardi l'attacco fisico di quell'ascio ciao quanto è? 186 100 16 ora muori quanto è bello il bambino io salto smato in retta sei inutile almeno scudori ci vanno per davvero al baron ci credo ci hanno detto ti ho detto io li ho avvertiti anch'io magari hai wardato qua ti puoi portare qua a fare niente non capisco che c'è qualcuno là dentro oddio fatti furla di fatti furla di così sono sciotti proprio fatti critico ciccio critico al favore mi sto facendo il drago quando guarda quando critico la cuciccio eccolo che vuol fare mi sto facendo il drago guardate perché vedo il mio pinga mi sto facendo il drago no l'avevo in retta che schifo che cosa si mette il coso d'autorità lo scuro d'autorità finiamo no cosa finiamo tieni hai reggito la cufa canale 3 parola 2 richiamate l'attenzione di darius bella dell'ombra o meglio guardate a me per favore ti voglio bene stupida vision eh si ho capito ora si finisce non si conosce in tino ho vinto modo facca ma io ne ho lo scopo accanto faccio back door city carattina e me don't get back door e me don't get back door chi si segue la coda quanto è stupido no perchè picchimilion stupido picchia inibitore studiato e retta picchia lexus ciao non uccidiamo non ucciderlo non c'è testo è andato di cittadini che faccio una sara è un po' più ci sono andiamo molto io ciao